un saluto e ben trovati a incontro con oggi parliamo di musica lo facciamo con corinna canzian che è la direttrice artistica dell'associazione gli echi della natura academy grazie per essere qui buongiorno a tutti e tutte iniziamo subito corinna a parlare della vostra academy ci spieghi un po di cosa si occupa quando è nata prego allora siamo partiti con un piccolo esperimento a seguito di un invito che mi era stato fatto in cadore per venire ad eseguire le stagioni di vivaldi si trattava di alcuni concerti dislocati su tutto il territorio del cadore e lì diciamo che ho avuto questa intuizione di creare provare a innescare una piattaforma culturale cioè portare sì degli eventi concertistici che raccogliessero il pubblico e che potessero fare assaporare alle persone i luoghi siti naturalistici del cadore però anche valorizzando i giovani talenti che ci sono nel territorio creando anche delle occasioni di scambio con talenti da tutta italia da tutta europa e quindi siamo partiti con un piccolissimo esperimento di pochi giorni di un corso di violino che ha avuto sin da subito un buon riscontro e questo mi ha dato fiducia quindi poi negli anni a proseguire con l'idea abbiamo subito avuto il supporto di alcuni enti siamo partiti a pieve di cadore ci ha ascoltati appunto subito il comune è stato molto favorevole entusiasta l'iniziativa e la fondazione tiziano appunto di pieve di cadore centro studi tiziano e da lì quindi abbiamo avuto il primo sostegno formale per partire nel 2019 abbiamo deciso di creare una un'occasione più strutturata sempre con l'aiuto dell'ente promotore della fondazione tiziano e del patrocino del comune di pieve di cadore abbiamo fatto partire la prima edizione degli ecchi della natura academy che grazie a un crowdfunding una raccolta fondi così per dire che partita dal basso insomma da un'esigenza orizzontale del territorio ha creato una scuola di musica di alto livello sul territorio con appunto professionisti siamo partiti col violino quindi nel 2019 c'era soltanto il violino come strumento ma anche aperta da altri strumenti perché avevamo anche insegnanti di composizione avevamo collaboratori che portavano poi i ragazzi fuori anche in escursione in siti particolari per valorizzare far conoscere le bellezze del territorio quindi portare la musica i talenti nei borghi e nei siti naturalistici e storici del territorio l'anno scorso abbiamo avuto un altro ente promotore che ci ha anche aiutati dal punto di vista digitale abbiamo avuto anche tante attività molto innovative tra il sound design appunto la digitalizzazione dei patrimoni che creava creavamo sul territorio le passeggiate abbiamo registrato e creato appunto dei contenuti ad hoc delle composizioni musicali in passeggiata passeggiate sonore quasi e da quest'anno visto che appunto il progetto è cresciuto bene il crowdfunding ha raccolto sempre più sostenitori sempre più generosi tra l'altro siamo diventati ente del terzo settore da ottobre 2021 e quindi ci affacciamo alla quarta edizione nel 2022 degli ecchi della natura academy con una struttura indipendente sempre più solida e consolidata speriamo di essere sempre più solidi e consolidati appunto io mi occupo della direzione artistica della progettazione ho al mio fianco una serie di persone che mi aiutano dal punto di vista della coprogettazione della comunicazione mi consigliano appunto su cosa sia bene fare cosa sia magari meglio aspettare ancora per i tempi e poi la cosa bella appunto come dicevo che siamo riusciti tra l'altro a portare siamo partiti dal violino come le dicevo e poi dall'anno scorso abbiamo avuto tante richieste per il pianoforte del violoncello quindi in corsa siamo riusciti a far partire anche dei corsi per il pianoforte il violoncello oltre poi a tutti i corsi aperti a tutti no composizione aperta anche i clarinettisti e flautisti a chiunque voglia mettersi in gioco dal punto di vista creativo e quindi pianoforte ci sarà anche quest'anno il violoncello anche porteremo un pianoforte a coda al forte di montericco e dove faremo i corsi e diversi concerti ecco scendiamo allora più nel dettaglio di questa edizione 2022 si diceva quarta edizione cosa proponete allora partiremo finora è stato un corso prettamente estivo nel senso ci siamo sempre localizzati tra fine luglio e inizio agosto proprio per intercettare anche una serie di visitatori del territorio che comunque sarebbero stati molto interessati anche a partecipare a questo tipo di attività vedendo la crescita del progetto per me c'era l'esigenza comunque proprio per valorizzare i talenti del territorio creare un'occasione per cui loro rimanessero con affetto nel territorio d'origine e avessero un punto di riferimento che per cui non servisse andare a Francoforte a Lucerna a Basilea vorremmo riuscire a destagionalizzare con il supporto degli enti ossia riuscire a mantenere il centro di riferimento estivo perché quello porta una serie di persone che d'estate vogliono avere quel tipo di esperienza però riuscire ad avere anche degli eventi negli appuntamenti durante tutto l'anno ogni due mesi ogni mese di valorizzazione del territorio con professionisti di alto livello che permettono appunto di dare continuità tutto l'anno al progetto quest'anno siamo riusciti ad avere un tentativo molto timido di realizzare questa cosa siamo partiti partiremo il 10 luglio quindi anticipiamo un pochino la stagione con degli open days aperti a tutti completamente gratuiti e messi a disposizione dei partner dove presenteremo possiamo presentare il progetto a tutti quanti i nostri partecipanti 10 e 15 luglio questi open days il 10 saremo ad Amos tra Pieve di Cadore e Valle e il 15 luglio ad Oronzo di Cadore nella foresta di Somadida dal 24 luglio al 31 luglio avremo il nostro campus appunto con i corsi tradizionali di violino pianoforte violoncello avremo anche la danza quest'anno un laboratorio sul movimento creativo insomma per imparare anche a muoversi sul palco non soltanto rimanere concentrati sull'esecuzione musicale da vedere avere un'aura esatto sì esattamente capire come si muove il corpo sul palco in sostanza non avere delle tensioni che non si conoscono un percorso sulla musica contemporanea sulla strategia anche per il mondo del lavoro per i giovani musicisti che si affacciano nel mondo del lavoro abbiamo appunto una masterclass di Amedia Ensemble che realizzerà questa cosa e in particolare appunto abbiamo questa la possibilità di destagionalizzare ci è stata data dall'idea di valorizzare con un contest interno i nostri migliori talenti e alcuni partner hanno deciso di mettere a disposizione dei riconoscimenti per questo per cui avremo dei corsi aperti a tutti ma anche dei momenti di tra virgolette di punta dove presentiamo i ragazzi che sono più pronti più avanzati in questo stadio e che si stanno già facendo al mondo del lavoro cercando di capire come muoversi nel mondo del lavoro li presenteremo il 15 luglio all'interno del secondo open days il 2 agosto alla remo dei romiti e poi il 4 settembre a cortina d'ampezzo al rifugio scoiattoli presto appunto avremo tutte la brochure precisa quindi sul nostro sito e sui nostri canali troverete le informazioni dettagliate però più o meno questa è la prospettiva dell'anno si riesce a partire a inizio luglio praticamente andare fino a settembre ci sono in questo momento anche dei diversi inviti con diversi comuni abbiamo molto bello anche far notare che vogliamo anche delocalizzare insomma non avere soltanto il mantenere il centro a piave di cadore però riuscire a costruire una rete con tutti le cittadine che le vallate intorno anche proprio in un'ottica di fare rete e farsi forza insieme di una cosa bella che sta accadendo sul territorio abbiamo avuto inviti appunto da da ronzo da longarone per una cosa bellissima il 29 luglio a longarone domegge cortina quindi insomma si sta un programma molto ricco e in espansione volevo parlare un po di un argomento che sta molto a cuore a me starà molto a cuore sicuramente anche a te musica e pandemia sono due parole che messe insieme stridono come un violino mal suonato però la musica può essere anche terapeutica dopo il periodo che soprattutto i nostri ragazzi hanno vissuto assolutamente la musica e la natura mi permetto di dire perché appunto non a caso abbiamo pensato di creare dei progetti che si chiamano gli echi della natura no concetto di eco non è mai statico e dinamico no io produco un suono lo voglio mettere in eco e mi rimbalza e dovrebbe ritornare poi il risultato allora il periodo è stato molto critico che stiamo che abbiamo attraversato che stiamo tuttora attraversando il progetto però è cresciuto molto in questa fase nel senso che siamo riusciti a intercettare proprio un bisogno urgente delle persone quindi sicuramente ci sono dei beni considerati essenziali che vanno tutelati assolutamente per per la sopravvivenza delle persone però vorrei far notare anche al pubblico a casa che per essere cresciuti così tanto e invito tutti andare a vedere le nostre edizioni appunto anche il crowdfunding quanto più le persone hanno partecipato a questa iniziativa è sintomo del fatto che sia un bisogno essenziale anche nel momento di crisi avere una situazione nella natura tantissimi medici prescrivono le passeggiate in natura no contro la depressione tantissimi medici prescrivono anche attività musicali per i bambini in fase di crescita perché la musica ti permette innanzitutto di socializzare riconoscere i ruoli quando si suona in un'orchestra devi riconoscere il ruolo c'è il primo violino il secondo violino la viola il flauto la percussioni il direttore esattamente quindi sei invitato ad ascoltare senza diciamo una diciamo un obbligo quasi militare no non so come dire ma viene ti viene spontaneo è una cosa che cresce con te ed è bellissima anche da vedere poi perché soprattutto quando facciamo le attività così compatte otto giorni di corso del 24 al 31 luglio ad esempio la crescita dei ragazzi è straordinaria abbiamo avuto ed è bello da citare una studentessa l'anno scorso che è arrivata molto intimorita facciamo dei training contro la paura da palcoscenico io cerco di pianificarli subito già il secondo giorno di corso così perché insomma giusto allenare l'intonazione il ritmo ma bisogna allenare anche i nervi anche perché poi vanifica la paura spesso tutto il lavoro fatto tra l'altro interessante che da ragionare su questo aspetto ed è un aspetto che ti porti nella vita di tutti i giovani tra l'altro la prova sul palco bene secondo giorno subito il primo training ovviamente momento di grande difficoltà no io non mi metto sul palco non esiste non ce la farò mai abbiamo dei docenti straordinari siamo riusciti in qualche maniera il docente di violoncello è riuscito a convincere questa ragazzina a partecipare come tutti gli altri andato benissimo nessun errore e quindi non aveva ragione di non credere in se stessa e soprattutto la cosa bella che da così a così nel giro di 10 minuti nel senso che lei dal giorno successivo è diventata una persona estremamente entusiasta energica propositiva quindi c'è anche in questo periodo dove abbiamo dei bambini delle bambine che si stanno chiudendo che pensano di non avere fiducia in se stessa che si nasconde se stessi che si nascondono dietro mille problemi mille dubbi la musica potrebbe essere veramente una medicina un cibo dello spirito dell'anima che ti può che può generare delle forze che pensavi ancora di non avere siamo quasi quasi in chiusura le chiedo un cenno sul progetto di ospitalità diffusa di cui accennavano accennavamo prima si si parlava di crowdfunding noi come crowdfunding intendiamo sia appunto un sostegno economico una donazione ma anche proprio dei sostegni tecnici o organizzativi quindi ci farebbe piacere coinvolgere come avviene in molti esempi in germania in norvegia paesi dove ho vissuto anche proprio per questioni lavorative ci sono delle famiglie che intorno ai festival intorno alle academy mettono a disposizione la propria casa per ospitare degli studenti spesso abbiamo delle famiglie che vengono appunto per fare questa vacanza studio con tutta la famiglia e stanno sul territorio felicemente tutti appunto insieme per l'occasione estiva altrimenti abbiamo anche delle occasioni dove la famiglia preferisce rendere indipendente il ragazzo alla ragazza quindi creargli un'occasione autonoma e allora spesso magari può essere interessante e bello anche come occasione di scambio integrazione con il territorio ospitare questi talenti perché comunque sono tutti ragazzi splendidi estremamente appassionati che si dedicano veramente alla passione con grande forza e grande entusiasmo ed è una bella occasione di scambio anche per i ragazzi del territorio che magari possono venire a contatto con questa con questa attività appassionarsi ed avere veramente delle cose belle e sane con cui crescere e animare la propria terra brevissimamente dove trovarvi sito allora gli echi della natura appunto academy abbiamo il canale facebook abbiamo il canale instagram e man mano con la crescita del crowdfunding noi teniamo tutto aggiornato abbiamo anche stiamo anche proponendo dei format su altri territori abbiamo avuto delle master class anche su barese abbiamo avuto degli inviti anche lì e questo weekend 17 19 giugno saremo proprio lì a fare un percorso tra musica astronomia che tra l'altro un percorso che vogliamo replicare anche proprio in qui in provincia di belluno e quindi vi invito a seguirci perché ci sono delle cose veramente molto interessanti tra musica natura e scienza proprio per creare commistione tra l'arte e la scienza e la vita di tutti i giorni e la natura e valorizzare i contesti naturali importanti e valorizzare sempre di più i nostri talenti trattenerli sul territorio e farli crescere insieme noi siamo in chiusura corinna grazie per il tuo entusiasmo grazie a voi grazie a voi per averci seguito arrivederci grazie a voi grazie a voi